Forse perché mi sento inadeguato, vivo al rallentatore, forse perché non sono preparato a questa vita piena di rumore, forse perché non ho ancora gli anni, quelli giusti per incominciare, forse perché avrò dei malanni che non se ne vogliono andare, forse perché siamo pieni di cose, viviamo troppo lontani, consumiamo gli specchi, studiamo le pose e infiliamo in tasca le mani, e per la paura che poi ci tocchi, lanciare sguardi insicuri, nascondiamo i nostri occhi, dietro un paio di occhiali scuri, forse perché siamo un po' tutti malati, di noia e di potere, prima di amare vogliamo essere amati, così anneghiamo dentro a un bicchiere, per la prima soddisfazione, per la prima difficoltà, e annaspiamo in una finzione, e la chiamiamo realtà. Forse perché questo navigare, è un viaggio senza meta, continuo a scrivere e poi a cancellare, una commedia fin troppo segreta, nella cassetta di sicurezza, ho nascosto la mia trave, e con brutale naturalezza, ho gettato via la chiave. Così cammino in mezzo alla gente, E non mi fermo perché ho premura, mi sento poco intraprendente, non guardo nessuno, ho paura, paura di farmi vedere, ed è per questo che mi nascondo, con questa faccia del viaggiatore, che si è perso per il mondo. Grazie a tutti.